Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, carissimi amici, ben trovati a questa nostra preghiera del mattino. Iniziamo aprendoci al nostro Dio e Padre, Padre nostro, che sei nei cieli sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, ascoltiamo dalla voce di Claudio il Vangelo, che questa mattina è il Vangelo di Matteo. Notiamo che proprio il percorso feriale dei Vangeli va a salti. Ieri eravamo al capitolo 18, oggi siamo al capitolo 11. Ascoltiamo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle. In verità io vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel Regno dei Cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il Regno dei Cieli subisce violenza e i violenti se ne guarda di Giovanni. Tutti i profeti e la legge infatti hanno profetato fino a Giovanni. E se volete comprendere, è lui, quell'Elia che deve venire. Chi ha orecchi ascolte. Parola del Signore. Lode a te o Cristo. Ecco, nei giorni scorsi abbiamo visto che il Vangelo ci apre a conoscere il volto di Dio che Gesù ci rivela. E abbiamo visto questa grande attenzione verso i piccoli, verso i perduti, espressa anche da quella bella parola, così è volontà del Padre vostro che è nei cieli che neanche uno di questi piccoli si perda. Ecco, aprirsi a questa rivelazione che ci fa Gesù è un cammino che non è mai finito, perché il volto di Dio sarà sempre più grande di qualsiasi nostra idea, immagine, che siamo arrivati ad avere. Ecco, lui sarà sempre più grande. E infatti il Vangelo di oggi ci parla di una domanda. La domanda in realtà non l'abbiamo letta, ma è la domanda che Giovanni Battista, dal carcere, fa a Gesù attraverso dei suoi messaggeri. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Ecco, questa domanda è molto importante. Fa capire che dentro di noi abbiamo pensato che Dio sia in un certo modo, con un certo volto, ma che troviamo che in realtà lui non è come noi abbiamo immaginato. È di più. Questo è molto importante. È molto importante. Ecco, allora ascoltiamo la lettura del Vangelo. Scusate, l'abbiamo già letto, sono in confusione. Ecco, ritorniamo allora alla spiegazione, al tentativo di condividere una riflessione. Ecco, quando noi abbiamo detto, ah, ho capito Dio, abbiamo una bella idea di Lui, bellissima. Sapete cosa succede? Che ce la mettiamo in tasca e non ci fa più crescere. Quando invece prendiamo coscienza che non abbiamo ancora capito Dio, abbiamo sempre tante domande da fargli. Allora, proprio queste domande ci fanno crescere. Ecco, allora, in questo brano Gesù dice che fra i nati da donna non vi è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista. È vero, Giovanni Battista è grande. diremo noi, è un grande. Perché? Pensate alla sua rettitudine, integrità morale, il suo stile di assoluta sobrietà. La sua coerenza, la sua fermezza, il suo coraggio, la sua testimonianza senza riguardo nei confronti di nessuno. È inarrivabile Giovanni Battista. Fra i nati da donna, e guardate che anche Gesù è nato da donna, non so se mi spiego. Fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. Lo dice Gesù. Ebbene, dove è arrivato Giovanni Battista? Fino a dove è arrivato? Fino a dire a Gesù, sei tu colui che deve venire? O dobbiamo aspettare un altro? Quindi lui che è così grande si è fermato lì. E noi che non siamo nessuno. Allora, ecco, allora qui Gesù veramente è grande. perché dice che nel regno dei cieli il più piccolo è più grande di Giovanni Battista. Sì, nel regno dei cieli si rovesciano le scale di grandezza. Ciò che è il più piccolo diventa il più grande e ciò che è il più grande diventa il più piccolo. E allora anche uno che è un piccolo, un perduto, una nullità ma che si lascia prendere da Gesù, portare in braccio da Gesù, raccogliere da Gesù, incontrare da Gesù, riceve in dono gratuitamente il regno di Dio. E quindi il più piccolo diventa il più grande di Giovanni Battista. Ecco, allora non è raro che ci si presenti un Vangelo in cui diciamo, Signore, non ho capito niente. Ma è bene dirselo. Sì, Signore, non ho capito niente. Sono distante anni luce dal comprenderti. Però ecco, forse qui dobbiamo dirci che è più importante amare che capire. E' più importante accogliere in dono che dire io con le mie forze sono capace di arrivarci. Ecco, allora Dio va più amato che studiato, che capito. Ecco, la comprensione è qualcosa che durerà tutta l'esistenza. Domande, nuove domande. E' importante che ci siano. Ma intanto Lui si lascia già comprendere, facendosi piccolo e lasciandosi accogliere dentro al nostro cuore. Ecco, allora non ci resta che metterci in ginocchio di fronte a questa grandezza che si fa piccolezza e chiedere al Signore la grazia dell'apertura del cuore a questo mistero stupendo. Vieni Gesù, riempimi di Te. Ti dono il mio cuore, riempilo del Tuo amore. Donami tutto Te e con Te donami le Tue virtù. Amami Gesù. Fa che io Ti ami con il Tuo amore. Grazie Gesù. Grazie che io sono qui. Sono qui perché Tu sei buono. Soltanto perché Tu sei buono. Vieni da me. Che io vengo da Te e siamo una cosa sola. Amore e misericordia e miseria. Una cosa sola. Il mondo ha bisogno di Te. Amore e misericordia. Fa che io Ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. Ecco il Tuo Spirito. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amén. E sempre anche disposti a lasciarci spiazzare dal Vangelo una buona giornata. A presto. Anche da parte nostra. Ciao, ciao.